Ad Agropoli, presso la Chiesa di San Francesco, si è tenuta la veglia di preghiera per la beatificazione del giovane Carlo Acutis. Abbiamo da poco concluso questo momento di preghiera che ci prepara alla beatificazione di Carlo Acutis, che si terrà il prossimo 10 ottobre ad Assisi. Come comunità parteciperemo a quell'evento e quindi abbiamo sentito l'esigenza di prepararci con un momento di preghiera che fosse proprio scandito dalle riflessioni del giovane Carlo, che ci ha lasciato come un grande tesoro, delle riflessioni brevi ma preziose, che ci aiutano a confrontarci con la centralità dell'eucaristia nella nostra vita, come è stata per Carlo. E anche ci orientano a quel processo di conversione a Dio, che Carlo ha sintetizzato con quella espressione lapidaria, non io ma Dio. Cioè, una esistenza totalmente teocentrica, cioè un'esistenza che ruota attorno al Signore. E quindi è stato per noi un momento forte per riscoprire queste dinamiche, che sono le dinamiche fondamentali della fede cristiana e che tante volte invece diamo per scontato. Ecco, le riflessioni di Carlo ci hanno aiutato, ecco, ci hanno consentito di metterci di fronte al mistero di Cristo presente nell'eucaristia e buttare il nostro cuore in Lui, esattamente come ha fatto Carlo nella sua giovane ma intensa esistenza.